Eccoci qua, eccoci qua, Napoli ha il suo allenatore. Rudy Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Io mo' sono tornato da una partita quindi se sono sudato il motivo è quello, mi dispiace sono uscito dalla partita con questa notizia, però bisogna ragazzi andare per gradi, perché bisogna andare per gradi. Fatevi salutare. Ho l'ermanito, sono G7, quello che tiene le tette, le racchette, le bagnette, le rocchette e non le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe o meno divertente di tutta YouTube Italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo del nuovo allenatore del Napoli. Come vedete, parliamo di Rudy Garcia, come vedete non sono entusiasta, come vedete non sono al settimo cielo. Non è ciò che mi aspettavo e l'avrete capito anche dagli scorsi video. Io avrei preferito un Galtier, anche un italiano, un Luis Enrique, un Conte Nuggelsmann, questa gente qui. La delusione penso che sia normale, perché io poi quando mi sento dire sei tifoso, devi tifare, a me girano le palle. Perché se voi siete privi di qualsiasi cellula che vi doni l'analisi, che vi doni la capacità di pensiero non è colpa mia. Mi dispiace ma non è colpa mia. Un tifoso adesso è deluso. Un tifoso adesso ci sta che sia deluso. Perché un tifoso, qualsiasi tifoso normale, avrebbe preferito Luis Enrique, avrebbe preferito Conte, avrebbe preferito la gente che si stava dicendo. Poi, che si sostenga è un altro discorso. Ma il fatto che si sostenga non significa che non si possa analizzare. Perché certe analisi che si fanno, secondo me, sono completamente fuori luogo. E adesso vi spiego. La delusione da questa notizia, da questo nuovo allenatore, non proviene assolutamente dal fatto che sia un cattivo allenatore Rudy Garcia. Perché non è un cattivo allenatore, è un allenatore valido. Un allenatore che è stato principalmente in Francia, poi è andato alla Roma, dove ha fatto bene soprattutto all'inizio, ha fatto un secondo, terzo e secondo posto, se non erro, in tre anni, adesso non ricordo precisamente. Tra l'altro è stato esonerato, è arrivato proprio Lucianone Spalletti al posto suo, se non erro, o è l'anno che arrivò Ranieri. Forse arrivò Ranieri? Non mi ricordo precisamente. Ma mi pare Garcia, mi pare Garcia, può essere che mi sbagli. In ogni caso è stato esonerato. Mi ricordo che venne sbattuto fuori dallo Spezia, in Coppa Italia, con tutto lo spogliatoio contro. Tra l'altro spogliatoio contro che ha ritrovato anche all'Alnastro, questo è quello che si dice, non è riuscito a vincere con l'Alnastro, è stato esonerato. Questa è sicuramente una cosa anche qui da tenere in considerazione. Però, ripeto, è un allenatore valido. Un allenatore che io spero si sia evoluto, spero che abbia studiato. Uno che propone un calcio abbastanza offensivo, almeno su questo ci riferiamo sulla questione dell'ideale. Però non è quello che io speravo, non è quello che noi speravamo, ragazzi. Perché, ripeto, la delusione non proviene assolutamente dal fatto che sia un cattivo allenatore, ma proviene dai nomi che erano stati fatti. Il fatto che, uno, essendo campioni d'Italia, ti aspetti qualcosa in più. Soprattutto arrivato al 15 di giugno, al 15 di giugno ti aspetti il colpo di scena. Ripeto, siamo campioni d'Italia. E da affidare la panchina del Napoli a Rudy Garcia, che lo vogliate accettare o meno, è una scommessa, non è una certezza. Non è assolutamente una certezza. Ripeto, uno che ha fatto bene in passato, uno che ha anche una buona storia in Champions, uno che ha vinto un campionato con l'Ill, ma l'ha vinto nel 2010, se non mi sbaglio. L'ha fatto bene con la Roma, l'ha fatto bene nel 2013, ragazzi. Noi siamo qui da anni, da due anni, da tre anni, a dire che il calcio è in continua evoluzione, il calcio sta cambiando, Allegri non si è saputo evolvere. Sapete chi vinceva i campionati nel 2013, 14, 15, 16, quando la Roma era allenata da Rudy Garcia? Massimiliano Allegri. Quei campionati in là li vinceva Massimiliano Allegri, che era considerato uno dei migliori allenatori al mondo. Quindi bisogna sempre analizzare le cose con un certo criterio. Io non sono soddisfatto da questa scelta. Penso che si sia capito. Rudy Garcia ovviamente avrà il mio pieno sostegno dalla prima all'ultima partita nella quale allenerà il Napoli. Ovviamente sarà il campo a decidere. Nel caso in cui dovessi pensare che il campo abbia decretato che meriti l'esonero, ovviamente staremmo parlando di qualcos'altro. Però ragazzi, Rudy Garcia è un buon comunicatore, è uno che è molto schietto, dice le cose come stanno, è un uomo tutto d'un pezzo, un sergente di ferro, uno che secondo me, almeno su questo nello spogliatoio, può servire. Ma è il messaggio che mandi, secondo me, che è sbagliato. È il messaggio che mandi che è sbagliato. Perché il messaggio che mandi a gente come Osimena, a gente come Kim, che ormai pare essere in partenza, ai vari di Lorenzo, a questa gente che ha appena vinto uno scudetto, non è un messaggio, secondo me, da parte della società buono. E ripeto, tu hai annunciato, Rudy Garcia, al 15 di giugno, che era già un allenatore svincolato. Questo che significa? Questo è quello che preoccupa principalmente. Poi magari sarò smentito dal calciomercato. Io mi auguro di vedere un calciomercato clamoroso, ma voi sapete che per me l'allenatore è la base. Perché l'allenatore deve partire tutto dall'allenatore, poi tu puoi riempirlo di giocatori. Cosa che non penso accadrà. Puoi riempirlo di campioni. Ma se l'allenatore non è valido, se non c'è l'uomo che ti dà l'idea giusta, che ti legge la partita, che te la prepari in maniera eccelsa, serve a poco. Che significa che tu hai annunciato Rudy Garcia al 15 di giugno? Vuol dire che tutte le tue prime scelte ti hanno detto di no. Perché una cosa è se tu in questo momento annunciavi Luiz Enrique, annunciavi Galtier, che si stava liberando dal Paris Saint-Germain, ok. Però vuol dire che le tue prime scelte ti hanno detto di no. E questo fa avvenire qualche dubbio su quello che è il progetto tecnico, su quelle che sono le intenzioni di Aurelio De Laurentiis. Poi ripeto, magari mi sbaglierò. Napoli ha guadagnato, la società del Napoli ha guadagnato tanta fiducia in quest'annata. Ma questo non significa che non bisogna dire ciò che pensiamo. Assolutamente. Io non sono convinto, vi dico la verità, non sono per niente convinto da questa decisione. Gaza chiaramente il fatto che sia un altro allenatore che proviene dalla Roma, magari viene un altro allenatore e vince un altro allenatore dalla Roma, però parliamo di una scommessa. E quello che dà fastidio è che non si può sempre scommettere, soprattutto se è una scommessa fatta da Campione d'Italia, perché questa scelta, io spero che sia stata, chiedo scusa se è spento García dietro, io spero che sia stata ponderata al 100%, io spero che non l'abbia fatta da solo Aurelio De Laurentiis questa decisione, spero che l'abbia presa facendosi consigliare. Ecco qua, si è riacceso Rudy García. Può essere, può sicuramente essere una cosa come può essere l'altra. Però quest'anno con una scelta giusta, con una scelta corretta, con una scelta di livello si poteva aprire un ciclo. Con Murigno che è rimasto, con Allegri che è rimasto, con Inzaghi che è rimasto, con Pioli che è rimasto. Gente che comunque sa come perdere punti. È vero, Pioli ha vinto un campionato, è vero, Inzaghi è una squadra fortissima, è arrivato in finale di Champions, ha vinto quattro trofei in due anni. È vero, Allegri ha una storia clamorosa, però secondo me con un allenatore serio, con un allenatore super valido, che possa attecchire fin da subito, si poteva aprire un ciclo. Perché è così. Che anche per caso possono partire i cicli. Anche per caso. E il Napoli di questo momento storico doveva approfittare e spero che con Rudy García lo si possa fare. Non mi convince, ripeto, non mi convince, ragazzi. Spalletti a me, e non mi venite a dire qua sotto, lo dicevate pure con Spalletti, perché con Spalletti ero gasatissimo. Io ero il primo che voleva Luciano Spalletti. Di Luciano Spalletti ero contentissimo. Anche al secondo anno, quando tutti quanti volevano Spalletti out, dicevo che Spalletti aveva fatto un miracolo il primo anno. Perché diciamo le cose come stanno. Fortunatamente ci sono i posti, ci sono le storie, c'è qualsiasi cosa. Andate a cercare tutto sul mio profilo, i miei tweet. Io Spalletti l'ho sempre voluto, l'ho sempre sostenuto, perché Spalletti è un grande allenatore. Rudy García non viene qua con le stesse pretese, perché una cosa è che tu hai fatto benissimo in Italia, con delle squadre che non dovevano vincere. Una cosa è che tu hai vinto i campionati in Russia, una cosa è che è diverso. Non è la questione del volere vincente, perché a me del volere vincente non mi interessa, perché se viene il logo Bielsa, che non ha mai vinto niente, sono contentissimo. È questione proprio di approccio alla scelta. Secondo me ci sta preoccuparsi, secondo me ci sta non essere soddisfatti al 100%. Detto ciò, lasciamo lavorare Rudy García. in tranquillità, speriamo che possa fare le fortune del Napoli. Gli auguro tutto il meglio, gli auguro di smentire questi miei dubbi. E niente, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù. Troverete anche G7Shorts, il mio canale pubblico teleclippo, momenti iconici, momenti dirtenti e canale, talk preferiti. Noi ci vediamo alla prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, Forza Napoli.